Namaste, ben ritrovati! Oggi facciamo una bella lezione di Yin Yoga. Yoga quindi rilassante, passivo, lasciandoti andare alla forza di gravità. Non per questo però è meno faticoso, per cui intanto ti consiglio di fare un piccolo riscaldamento. Da in piedi facciamo un po' di marcia sul posto lenta. Ti consiglio di fare questo video volendo dopo uno dei miei di cardio o comunque di un po' più dinamici, quindi anche quelli yoga flow lunghi dalle mie lezioni. Perché comunque lo Yin Yoga è anche molto stretching, allungamento, posizioni proprio passive per lasciarti entrare proprio per la forza di gravità, quindi rilassarti proprio, lasciarti andare. E i muscoli devono essere un minimo riscaldati prima. Per cui adesso fai anche qualche movimento per scaldare i femorali, quindi un calcettino dietro. Respira, tieni sempre un po' l'addome, sposta il peso da una parte all'altra e poi andiamo a fare un po' di squat per riscaldare ancora meglio le gambe e i glutei. Ok, inspira, ti siedi nella sedia, espirando ritorni. Le braccia in avanti o distese o flesse, giusto per bilanciare il peso. Scendi con le ginocchia in linea con i piedi, fino a dove riesci a mantenere bene gli allineamenti articolari. Fai i piedi e le ginocchia in linea, il bacino che si muove. E ora fai un bel espiro con l'addome in dentro, il coccige verso il basso e inspira nella posizione della stella, abbassando le spalle e aprendo le dita delle mani. Guarda da un lato così da sentire bene il collo libero, espira giù e di nuovo inspira, apriti e guarda dall'altro lato. Espira giù e ancora inspira. Torsione del collo da un lato e dall'altro, con le spalle lontane dalle orecchie, fino a rimanere al centro, abbassare, aprire, aprire la parte alta. Quindi le spalle sempre giù, il petto bello aperto, il bacino fermo e l'addome sempre ben tenuto. Da lì movimento dell'amantide religiosa, allungando un braccio e l'altro, lasciando i polsi rilassati. Così riscaldiamo anche l'articolazione delle spalle. Per andare poi a girare anche qua un po' la testa da un lato e dall'altro, per liberare bene l'area cervicale. E poi inspira ed espirando appoggiati con le mani sulle cosce. Fai una bella curva nel gatto in piedi e inspirando torna ad appiattire la schiena. e srotola, risali, abbassa le spalle. Ecco, io adesso ho preparato un cuscino, uno zafu, quindi un cuscino abbastanza consistente. Ovviamente scegli tu il tuo cuscino, però può servire molto nelle posizioni che andremo a fare a terra. Prima di tutto, però, ti faccio la posizione da in piedi, come a fare un tuffo a testa in giù, rilassi schiena, braccia, spalle, collo, ti lasci ciondolare un po' a testa in giù, con i piedi ben ancorati a terra e il peso esattamente nel centro dei piedi. Come ad aumentare lo spazio fra le vertebre ad ogni respiro e lasciarti proprio andare. E da lì pieghi le gambe e le estendi qualche volta per riscaldare ancora un po' i quadricipiti e allungare i femorali in modo dinamico, fino a rimanere giù, appoggiarti al cuscino ed estendere le gambe piano piano. Da qua prova proprio a sentire l'appoggio sul tuo cuscino che ti sostiene il sacro, in modo da portare la schiena più dritta e il bacino più in avanti. Inspira ed espirando, come fare un tuffo in avanti, ti vai a prendere gli alluci o l'esterno dei piedi, anche con le gambe un po' piegate. Prendi un punto dove arrivi bene, apri le spalle e lasciati ondeggiare un po' col bacino. Respira come a lasciarti andare alla forza di gravità, ma sempre con una micromobilità presente anche nell'apparente staticità della posizione. Le piante dei piedi proprio dritte in avanti, quindi non storcere le caviglie, ma tieni i piedi proprio belli pari. E sentirai che ad ogni respiro il corpo si adatta e si adagia un po' di più. Fino a srotolarti, a tornare su pian pianino. A sollevare di nuovo le braccia al cielo. Ed espirando ritorna e pieghi la gamba destra, quindi una gamba, apri l'anca verso l'esterno. Trova la tua posizione comoda e il cuscino ti può aiutare comunque a sostenerti, però non è necessario, chi è abbastanza sciolto può anche fare senza. Mantieni l'apertura, sciogli un po', Ispira di nuovo, braccia su e ispira in avanti in Janushir Shasana. Anche qua ti prendi il piede se ci arrivi bene, altrimenti prendi sotto al polpaccio o in un altro punto. E ad ogni respiro immagini di lasciarti allungare un pochino di più. Lascia come adagiare sempre di più il tuo corpo, goditi ogni allungamento. Senti allungare anche il fianco oltre alla gamba e se c'è qualche tensione con micro movimenti di aggiustamento ti aggiusti e cambi un pochino la posizione. La testa in linea con la schiena o se sta comoda proprio si può appoggiare sulla gamba, ovviamente se si appoggia. Sempre se il collo è comodo puoi anche lasciare la testa rilassata in giù. Per poi lasciarti srotolare piano piano, inaspirando tornare su ed espirando rilassare le braccia, prenderti il ginocchio con la mano e sostenere la gamba. Ti abbracci, dondoli un attimino, pieghi entrambe le gambe, abbracci entrambe le tue gambe, respira, abbassi le spalle, provi a scodinzolare un po' con la schiena e rilassi l'altra gamba distesa e l'altra la fletti aprendo l'anca in fuori. Anche qua se c'è bisogno col cuscino, se no anche fai senza, metti bene a posto il tuo piede in modo da non avere tensione al collo del piede e trovare la posa giusta per la tua anca. Piede destro flesso, inspira, espira, Janushir Shasana. La posizione della testa al ginocchio, come prima, se c'è bisogno prendi sotto al polpaccio, fletti un po' il ginocchio, trova l'adattamento per il tuo corpo della posizione e ad ogni respiro ondeggia un po' e lasciati sciogliere piano piano. Lasciati adagiare sempre più alla forza di gravità, come a cadere, a spalmarti sul tuo tappetino. Senti dov'è che il tuo corpo si allunga maggiormente, il piede è proprio bello pari, quindi presto attenzione a tutte le parti del tuo corpo e anche la testa, non deve esserci tensione al collo, quindi o in linea con la schiena o appoggiata con la fronte sulla tibia. Per poi rilassarti e srotolare. E di nuovo risalire in, inspirando, ed espirando prendi il ginocchio, lo sostieni, ti abbracci. E ti abbracci entrambe. Ora da qua apri le anche e una gamba si porta sotto e l'altra di sopra. Faccio vedere di così. Questa posizione è un po' scomoda per alcuni, tipo nodo. Se proprio in questa posizione non riesci a stare, puoi portarti semplicemente in su casana, quindi con una tibia davanti all'altra. Ma se ce la fai proprio, anche magari con il cuscino sotto, perché questo sempre, se ti sostieni il sacro, ti può aiutare. E devo allungare la fascia lata. Quindi inspiro ed espirando mi lascia allungare in avanti. ovviamente anche qua prova pian piano ad adagiarti. Sempre più. Quindi o così o in su casana con le gambe incrociate, con un supporto sotto al cocci che ti sostiene e ti aiuta ad allungare tutta la parte esterna delle cosce, delle anche, di tutta quell'area del bacino anche, tutta la fascia lata. La prossima ispirazione, risali, inspira, attenzione allo sciogliere le posizioni. Se hai fatto proprio il nodo, ti sciogli aiutandoti con le mani, perché dopo un po' che si sono mantenute le posizioni, ovviamente le articolazioni si sono irrigidite in quella posa. Quindi con calma. E dall'altra parte uguale o su casana oppure passi con il piede di là. Solo se riesci ad appoggiarlo bene a terra, però, così da non forzare troppo il ginocchio e le articolazioni. Quindi appoggi il piede, tienilo flesso e di nuovo ti lasci adagiare in avanti per allungare la fascia lata. respira e lasciati adagiare sempre più. sempre con dei bei respiri lunghi e profondi, aggiustandoti con micro movimenti mentre sei nella posizione. E di nuovo, per poi ritornare su. Ricorda sempre che c'è un lato che è più sciolto rispetto all'altro, che è normale, ma in ogni caso, manteniamo la posa da entrambi i lati, eventualmente un po' di più da quello più difficile. Poi adesso facciamo la posizione di Konasana, quella con le gambe divaricate. Anche qua possiamo aver bisogno dello Zafu oppure potremmo farla con lo Zafu dietro e di fronte alla parete, di fronte al muro. C'è chi preferisce spingersi con le proprie mani, quindi in avanti. Se preferisci quella posizione, ti può aiutare moltissimo per l'apertura delle anche, ma ti mostro anche la posa di qua. Inspiri, espirando o con le mani a terra appoggi i polpastrelli e come ho fatto vedere prima, spingi in avanti, oppure chi è abbastanza sciolto può anche appoggiarsi alle tibie o anche a terra. Ovviamente ognuno in base al proprio sentire. Ti lascia adagiare sempre più piano piano. Se ce la fai e se sei comodo e confortevole con le punte dei piedi verso il soffitto, l'anca bella aperta, le spalle lontane dalle orecchie, puoi appoggiarti pian piano anche sui pugni sovrapposti o sulle mani. Quindi fai una di quelle versioni che ti ho mostrato, o contro il muro, o con lo zaffu, con le mani a terra, o con le mani sulle tibie, o solo se sei molto sciolta anche con le mani a terra, così. Per poi ritornare pian pianino su, ispirare di nuovo, ed espirando richiudere, prenderti l'ingavo interno delle ginocchia, scuotere un pochino le gambe, e ritornare a flettere le ginocchia. Questa volta togli il cuscino perché andiamo un attimino a sciogliere l'articolazione che ha lavorato, andando a spostare le ginocchia da un lato e dall'altro, liberiamo l'anca, liberiamo un po' tutto quanto. queste posizioni allungano veramente tanto e aiutano il corpo proprio ad adagiarsi piano piano. Ora facciamo una posizione per allungare lo psoas e anche la fascia lata come prima. La posizione del piccione e Kapada Rajya Kapotasana è una posizione molto impegnativa per alcuni, quindi prima facciamo un po' di gatto, muoviamo un pochino il bacino, e andremo a portare una gamba in avanti col ginocchio fra le mani, la tibia la spostiamo un po' verso l'interno col piede flesso. Qua devo stare col bacino parallelo a terra, quindi non vado ad aprirmi a cadere di lato, ma resto pari. Se la tibia tende a chiudersi, prova a fare questo piccolo accorgimento, giri un po' dal lato della gamba piegata, così lo psoas si allunga di più, la gamba dietro si sposta un po' indietro, le mani rimangono all'altezza del ginocchio, quindi non più avanti, ma qua, in modo da aggiustare il più possibile la tua tibia qua. Devo sentire la fascia lata, il gluteo della gamba piegata probabilmente non si appoggerà a terra, in quel caso puoi metterci il cuscino sotto, dopo ti faccio vedere anche dall'altra parte, così si vede sotto al gluteo, però non sempre c'è bisogno, quindi pian pianino allunghi lo psoas della gamba distesa e quando ti sei aggiustata nella posizione, scendi, puoi portare i pugni sovrapposti per appoggiare la testa o se la testa si appoggia tranquillamente a terra, ti puoi appoggiare e lasciarti spalmare nella tua posa del piccione, respira, lasciati ondeggiare un po' finché pian piano il corpo si spalma sempre più verso la terra, ovviamente non devi avere tensioni articolari, quindi aggiustati sempre un pochino, per poi riportare una mano e poi l'altra vicino al ginocchio, srotolarti, risalire, spingere con la pancia in dentro per sollevarti e riportare la gamba dietro e da qua senza forzare, e quindi sempre muoviti lentamente soprattutto nei passaggi, ruota un po' le caviglie, sciogli ancora un po' il bacino che andremo a fare la posa ovviamente dall'altra parte, quindi ascolta un attimo la differenza fra i due lati per portare poi adesso l'altro ginocchio esattamente fra le mani, la tibia un po' verso l'interno e come abbiamo fatto prima puoi girarti un po' dalla parte della gamba piegata per sentire che la tibia si apre di più, però l'altra gamba dietro dritta, quindi senza cadere in fuori col bacino, stai col bacino parallelo, anche qua se c'è bisogno puoi portare il cuscino sotto al gluteo, ma in realtà siccome piano piano nella posizione potresti scendere sempre un po' di più, consiglio di, se proprio non hai moltissima necessità, di non metterlo, di mettere soltanto le mani e piano piano lasciare che la posizione si sciolga da sola, o se no all'inizio lo metti poi magari lo togli e pian pianino così comincia ad adagiarti con i pugni sovrapposti sotto alla fronte e quando te la senti sempre senza fretta ti lascia andare proprio con la testa a terra e sentirai che pian piano la posa diventa più piacevole, più sciolta e ad ogni respiro riesci a scendere un pochino di più quando decidi sempre con calma in modo mindful quindi molto meditativo ritorni con le mani vicino al ginocchio srotoli ed esci dalla posizione sempre con calma riportando indietro le gambe porti le ginocchia un po' aperte gli allucci uniti ti siedi sui talloni o verso i talloni nella posa del bambino di nuovo rilassi la testa ed ondoli un po' respira lasciati adagiare e senti proprio questi bei movimenti come hanno sciolto il tuo corpo se vuoi puoi continuare e proseguire lo stretching facendo un altro video dei miei della playlist stretching che sono anche un pochino meno lenti ma continuano questo lavoro di allungamento in ogni caso lo yin yoga anche soltanto di questo video ti aiuta comunque a entrare molto in profondità negli allungamenti per poi riportare le mani vicino alle ginocchia srotolare la schiena magari mettere lo zafu sotto i glutei per allungarti bene stare più comoda invirasana nella posizione a sedere per ascoltare un istante i cosiddetti effetti residui di questi movimenti dentro di te scegli anche un'altra posizione se vuoi ma giusto per fare un po' di ascolto interiore per continuare a stare nella pratica nella routine e dentro di te ringraziandoti anche interiormente per essere entrata in questa pratica molto interiorizzante e che va a sciogliere blocchi profondi un bel inspiro ti riapri al cielo ed espirando congiungi le mani al tuo cuore continua a seguire i miei video condividili con chi vuoi e leggi tutte le mie descrizioni qui sotto buona prosecuzione namastè in questa pratica Grazie a tutti.